che la mia voce vi raggiunga ovunque voi siate cari amici in zona anche oggi vi meritate una medaglia per non esservi dimenticati di passare da queste parti dove come al solito vi attende l'ascolto di un caso di true crime scelto da sottoscritto per voi se siete nuovi non vi preoccupate c'è una bella medaglia luccicante anche per voi dovete soltanto iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche e mettere un mi piace alla fine del video se sarà stato di vostro gradimento per il caso di oggi vogliamo a jacksonville florida 1993 bonnie hame è una giovane donna di 24 anni è cresciuta in una famiglia piuttosto numerosa con ben sei figli tra fratelli e sorelle aveva un ottimo rapporto con loro così come ce l'aveva con i suoi genitori anche bonnie sperava un giorno di diventare madre di molti bambini forse per questo si sposò in giovane età infatti aveva appena 18 anni quando convolò a nozze con michael hame e nel 1993 i due avevano già un bambino di tre anni di nome aaron erano una coppia all'apparenza tranquilla lui titolare di un'azienda che lavorava nel campo delizio appartenente a dei parenti di bonnie mentre lei impiegata in quella stessa azienda come contabile tuttavia se sul lavoro bonnie e michael sembravano andare d'accordo tanto da far pensare a una normalissima giovane coppia così non era tra le mura domestiche michael appariva come un uomo calmo e gentile ma dopo la nascita del bambino il suo carattere era cambiato era diventato irascibile a volte intrattabile bonnie aveva visto l'uomo del quale si era innamorata di venire un altro e allontanarsi da lei e lei di conseguenza si era progressivamente allontanata da lui cercando di riservare tutte le attenzioni al figlio nel corso del tempo si era confidata con i genitori e la famiglia riguardo questa situazione non certo piacevole può capitare che una coppia attravesse un momento di crisi ma quello tra bonnie e michael era decisamente qualcosa di peggio lei si sentiva imprigionata controllata il marito non l'autorizzava neppure ad avere un conto a lei intestato ma un giorno bonnie decise di aprirne uno e iniziò a depositarvi piccole somme di denaro ovviamente all'insaputa di michael che non appena lo scoprì glielo fece chiudere ma bonnie aveva ormai un chiaro obiettivo quello di andarsene da casa sua con il figlio lasciare il marito e cominciare una nuova vita lontano da lui a tal fine iniziò a usare alcuni suoi amici come depositari di fiducia dei soldi che non poteva più depositare sul conto corrente e nel 1993 finalmente decise di fare il grande passo aveva la possibilità di affittare un appartamento e trasferirsi lì restava solo la parte più difficile dire a suo marito che se ne sarebbe andata perché di certo un uomo come michael ame non l'avrebbe presa bene arriviamo così al 6 gennaio 1993 quella sera bonnie rientrò a casa attorno alle 19 e 30 ma un'ora più tardi era attesa a casa di sua zia per un party in onore di una sua conoscente futura mamma una di quelle feste dove si fanno regali di buon auspicio a chi di lì a poco metterà al mondo un bambino bonnie però non arriverà mai a quel party attorno alle 8 chiamò sua zia dicendo che non sarebbe andata dalla sua voce la donna comprese che qualcosa non andava sembrava che bonnie piangesse disse soltanto che aveva avuto una discussione con suo marito e che ne avrebbero riparlato sua zia non insistette e la telefonata si interruppe lì il giorno seguente 7 gennaio era giorno di lavoro e né bonnie né michael si presentarono in azienda visti i toni della telefonata della sera precedente la zia della donna iniziò subito a preoccuparsi nonostante michael avesse chiamato e detto che non si sarebbero recati al lavoro poco dopo le 8 telefonò a casa della coppia per chiedere il motivo di quell'assenza e accettarsi che tutto andasse bene a risponderle fu proprio michael che le rivelò come fosse un brutto momento bonnie se n'era andata la notte prima alle 23 e non era più rientrata lui addirittura era andato in giro a cercarla in piena notte lasciando il figlio con sua madre ma non era riuscito a trovarla e trattandosi di un allontanamento volontario aveva deciso di non chiamare la polizia convinto che lei sarebbe tornato una volta sbollita la rabbia ma se michael non aveva contattato le autorità la stessa cosa non fece la zia di bonnie quella storia le sembrava assurda sua nipote non sarebbe mai scappata via così lasciando suo figlio in casa l'auto di bonnie venne ritrovata all'aeroporto di jacksonville si controllò se bonnie avesse preso un aereo la sera precedente o nelle prime ore del mattino ma nessuna lista di passeggeri riportava il suo nome inoltre sarebbe stato strano che avesse potuto prendere un aereo visto che non aveva soldi e documenti con sé lì nei paraggi infatti c'era un motel dove un inserviente ritrova la sua borsetta in un cassonetto dei rifiuti michael gli agenti di polizia e i genitori di bonnie non appena presa la notizia si recarono sul posto per esaminare il contenuto della borsetta dalla quale non mancava nulla neppure una discreta cifra in contanti e ciò fece subito abbandonare la pista della rapina tuttavia alla stranezza della situazione si aggiunsero ulteriori particolari sinistri il sedile del guidatore era tirato molto indietro non certo commisurato all'altezza di bonnie ma più a quella di un uomo inoltre sul tappetino del lato guidatore c'era un'impronta con residui di sabbia e materiale vegetale che anch'essa non corrispondeva al piede della donna durante le indagini il figlio di bonnie michael venne affidato alle cure di una delle sorelle della donna e si decise inoltre di farlo parlare con uno psicologo infantile con la speranza che si riuscisse a avere da lui informazioni su quanto accaduto la notte della scomparsa e le informazioni arrivarono anche molte di più di quelle che ci si sarebbe potuti aspettare il bambino disse che il padre aveva ucciso la sua mamma che aveva buttato il fucile che poi l'aveva sepolta parole e descrizioni molto confuse certo ma che delinearono un quadro agghiacciante l'azia di bonnie non ebbe difficoltà a credere le parole del piccolo visto che sospettava già di michael mentre i genitori della donna erano più scettici non riuscivano a credere che michael avesse fatto quelle cose a bonnie e volero pensare si trattasse solo delle fantasie di aaron gli psicologi sostenero che sebbene i racconti fossero da prendere con le pinze rappresentavano comunque un ricordo credibile di qualcosa al quale aveva assistito quindi nonostante le ricerche di bonnie non si fermarono il sospetto che potesse essere stata uccisa dal marito divenne una concreta possibilità anche se michael non poteva essere accusato di nulla in assenza di prove fisiche o testimonianze non si sarebbe trattato comunque di un caso risolto in breve tempo bonnie non venne mai ritrovata gli anni passarono e il figlio della coppia crebbe con una nuova famiglia non si ritenne infatti di affidarlo né ai parenti di lei né a quelli di michael arriviamo così al 1999 sei anni dai fatti quando bonnie e him venne dichiarata legalmente morta i genitori di bonnie rimasero dalla parte di michael continuando a credere che la figlia fosse sparita di sua iniziativa michael proseguì la sua vita con una nuvola di sospetti sopra di lui che però rimasero tali si trasferì ma non vendete la sua vecchia abitazione piuttosto decise di affittarla ma con clausole molto strane in pratica non dovevano essere apportati i cambiamenti al giardino lì tutto doveva restare com'era passarono altri anni ma a tempo debito michael tornò nell'occhio del ciclone e fu proprio suo figlio la causa haron supportato dai suoi genitori adottivi trascinò l'uomo in tribunale l'ormai ex bambino non aveva mai smesso di raccontare dell'omicidio compiuto dal padre a scuola e a casa faceva disegni spaventosi e raccontava ai compagni di classe tutto quello che gli era accaduto i contenuti dei suoi temi erano orribili così come i suoi sogni e le ombre di quel giorno del 1993 che evidentemente non lo avevano mai abbandonato incredibilmente sotto certi aspetti vinse la causa non è la prima volta che negli stati uniti vediamo cause civili produrre degli effetti importanti nonostante non vi siano state conseguenze penali per i condannati a risarcimento in questo caso michael haym fu condannato a pagare ben 26 milioni di dollari e cedere al figlio la casa dove la famiglia viveva all'epoca non so se li abbia mai pagati difficile pensarlo ma la casa effettivamente passò di proprietà e nel 2014 haron ormai 24 anni decise di ristrutturarla per andarci a vivere ed è qui che abbiamo la svolta finale del caso mentre gli addetti ai lavori si apprestavano a rimuovere una lasta di cemento che ricopriva una parte del giardino trovarono il frammento di un cranio umano assieme ad altri resti in aggiunta a questo c'era anche il bossolo di un fucile calibro 22 che combinazione era lo stesso che michael aveva posseduto le analisi del dna condotte sui resti umani ritrovati fornirono una risposta attesa da più di 20 anni quei resti appartenevano ovviamente a bonni e se da un lato le moderne tecnologie avevano permesso di determinarlo cosa che magari all'epoca non sarebbe stata possibile era sicuramente possibile fare qualche ricerca più approfondita in giardino cosa che evidentemente non venne fatta nell'agosto del 2015 michael venne arrestato con l'accusa di omicidio e il processo cominciò l'8 aprile 2019 lui si dichiarò innocente ma il 21 maggio dello stesso anno venne giudicato colpevole di omicidio di secondo grado e condannato all'ergastolo e così a 26 anni di distanza haron pote finalmente avere giustizia e delineare il volto reale di colui che aveva ucciso sua madre che combaciava perfettamente con quello visto e rivisto nei suoi incubi peggiori ed anche per oggi è tutto cari amici in zona come si dice in questi casi meglio tardi che mai anche se a volte per risolvere certi casi basterebbero un secchiello e una paletta e non chissà quali complicati strumenti di investigazione io vi ringrazio per essere rimasti qui fino alla fine vi do appuntamento ai prossimi video in zona nel frattempo per sicurezza non apriti a nessuno neppure se bussano forte alla prossima